Esercitazione terremoto a Pinerolo Segui il sindaco e stiamo attivando Il Cg mi sta passando le consegne, io sto cominciando ad attivare tutti i colleghi prontamente attivabili e avere le prime informazioni Appena ho due informazioni un pochettino più precise va attivo anche il rendimento Ciao Stefano, buongiorno, abbiamo provato ad attivare al volo la videoconferenza Vi sentiamo e vi vediamo anche se teoricamente abbiamo capito che avremmo le linee cellulari giù Esatto, quindi voi state lavorando via radio col territorio? Esatto, proprio così se sono salvate le comunicazioni delle spaniaciste Grazie mille! 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 L'epicentro è stata individuata nella zona sud-est del Pinerolese come era già successo in passato e al momento sembrano coinvolte maggiormente tra i comuni di Pinerolo, di Luzerno-Argentina e di Luzerna-San Giovanni. Luzerno-Argentina e di Luzerno-Argentina è un'informazione veloce di servizio che comunica che il campo della regione Piemonte e Pinerolo è attivo. Questa riguarda è una gran notizia. 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 Questa riguarda è una gran notizia.